Questo è The Roman Show! Il mondiale è sicuramente un mondiale di qualità e credo che l'Italia abbia sicuramente fatto una buonissima impressione subito in partenza con l'Inghilterra. Anzi è stato un lavoro di qualità e l'Italia ha fatto molto bene nel primo gioco con l'Inghilterra. L'Italia ha fatto molto bene nel primo gioco con l'Inghilterra. Sicuramente sapevamo che era un ciclo che doveva finire. La Spagna è stata protagonista nell'ultimo europeo e nel mondiale. Siamo conosciuti che era un ciclo che era iniziato a finire. La Spagna è stato protagonista dell'ultima Europa e dell'ultima World Cup. Ma era un ciclo che era iniziato a finire. a finire con lui. Il Barcellona aveva già dato segnali di questo finire di un ciclo. E questo ha rispecchiato tutto poi nella nazionale. Perché chiaramente tanti giocatori del Barcellona sono stati protagonisti nell'ultimo europeo e mondiale nella nazionale spagnola. Sì, il Barcellona... Se guardate le performance del Barcellona, potremmo potremmo spiegare la scelta della nazionale. Perché molti giocatori del Barcellona giocatori anche nella nazionale. E' stato un ciclo che era iniziato per il Barcellona e per la nazionale spagnola. Senz'altro l'Italia sarà una delle protagoniste di questo mondiale. Però pensare di vincere il mondiale è sicuramente un'impresa molto difficile. Certo, ce l'auguriamo. Noi degli italiani ce l'auguriamo. Però è chiaro che ci sono nazionali molto competitive quest'anno. Credo che l'Italia abbia un ottimo team che può fare molto bene in questo World Cup. Ma da qui, per essere un protagonista, sarà abbastanza difficile. Perché in questo World Cup ci sono anche altre competenze, come il Brasile. E alcuni altri. Ci saranno i nostri strumenti, ovviamente. In maniera negativa. Perché qualitativamente è una squadra sicuramente al di sotto. che hanno fatto la storia del Brasile. Si è impressionato in un modo negativo. Perché adesso abbiamo visto un Brasile che era in base alla esperienza della prima squadra del Brasile che abbiamo visto nella prima World Cup. Per quello che abbiamo visto fino ad ora, credo che la Germania è la squadra più solida. In tutti i reparti. Però il Mondiale non la vince la squadra più bella. La squadra che riesce ad ottenere un risultato costante, un comportamento costante sia dal punto di vista fisico che tattico. Ancora abbiamo visto una Germania che è una squadra molto solida. Ma nel soccer è molto difficile che la squadra più bella venga. e quindi è molto difficile previsare adesso chi sarà il vincitore e chi sarà in finale. Noi come Inter Academy siamo qua per questo perché vediamo un grande interesse, una grande voglia di giocare. Vediamo bambini che si illuminano gli occhi quando vedono un pallone. Quindi noi siamo qua per portare qualcosa anche di innovativo su questo territorio. Come interacademy in Florida, abbiamo anche avuto l'interesse di giocare di giocare di giocare. Quindi quando vediamo i bambini che stanno in giro, che hanno un sorriso in fronte, siamo felici. Abbiamo avuto l'interesse di giocare 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 di giocare. e anche perché abbiamo un team MLS in Miami molto pronto. Questo è il Romanzo Show!